Mi chiamo Juan e ho 59 anni. Da piccola, da grande, volevo imparare le lingue e anche scoprire cose nuove. Ho due figli grandi e sono nonna di un nipote. Poi adesso, da 40 anni, vivo a Torino. Mi piace tanto l'Italia. Anche adesso imparo le lingue da grande. Nel futuro mi piacerebbe fare cose nuove e tutto. Sono Vittoria, ho 9 anni, ho due fratelli gemelli. Da grande mi piacerebbe fare veterinario, mi piacerebbe imparare la lingua e tante cose nuove anche. Grazie. 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 Grazie.